Ben trovati sui canali di Blog Sicilia, a tutti coloro che ci seguono come è abitudine. Vi ricordate la vicenda di Via Sicilia, di Via Lazio, la chiusura, i lavori, gli esercizi commerciali che spesso si sono trovati a doversi spostare, a non poter lavorare, anche a chiudere? Bene, adesso ci sono delle novità, ci sono delle novità che derivano da una sentenza, ne parleremo fra poco con l'avvocato Giuseppe Emanuele Greco, ma prima la sigla e poi andiamo. E allora, come vi avevo annunciato, è con noi il nostro gradito ospite, l'avvocato Giuseppe Emanuele Greco, che ringraziamo per essere qui con noi. Buonasera, buonasera, grazie a voi. E a lui chiediamo innanzitutto di introdurci, come ti abbiamo detto in premessa, ci sono delle novità che riguardano quell'area di lavori perenni, continui, infiniti, non separati nemmeno come definirli, quali sono queste novità che riguardano una sentenza in buona sostanza? Assolutamente sì. Intanto rinnovo il buonasera, grazie di nuovo per lo spazio che state offrendo. Che c'è di nuovo? Partiamo in realtà da una storia che a Palermo, e non solo a Palermo, ha fatto veramente, in qualche modo ha fatto stare male moltissime attività, stare male sotto un profilo non soltanto economico, ma anche morale, psicologico, perché tutti i lavori che sono stati in qualche modo realizzati a Palermo per il tram, per il metro e altri lavori connessi a questo servizio, ha comportato di fatto che un sacrificio molto forte da parte dell'attività commerciale, al di là poi anche delle strutture condominali che hanno in qualche modo subito e sobbarcato... Di saggi costanti e durati parecchio nel tempo, nello specifico diciamo, parliamo in questo caso di Via Sicilia, che è stata riaperta da qualche settimana. Via Sicilia è stata in qualche modo riaperta, anche grazie a dei amici consiglieri, che hanno un po' stimolato nell'interesse, non soltanto dell'attività, ma di tutti gli utenti, questa riapertura di Via Sicilia, ma in realtà è una riapertura che arriva esattamente dopo circa sette anni e mezzo, perché i lavori iniziano nel 2015 e in qualche modo soltanto nel 2021 c'è stata questa riapertura della via, una vettura parziale perché neanche si può tirare dritto, è rimasta ancora una struttura su Via Le Lazio, che credo verrà ultimata veramente a breve, e c'è stato, in realtà c'è stato un disagio totale, un disastro economico... Intanto vi permetto di fermare un attimo per ricordare a chi ci segue, e non dovesse ricordarselo anche se è difficile, stiamo parlando dei lavori per la cosiddetta chiusura dell'anello ferroviario, che è una sorta di metropolitana, ma che non è una metropolitana, perché nemmeno si può definire di Palermo, opere che dovevano durare ben meno di quello che stanno durando. Il punto è proprio questo, dovevano durare da progetto circa due anni, due anni e mezzo, non di più, quindi dovevano terminare dalla prima ordinanza di chiusura circa nel 2017, inizio del 2015, inizio del 2017, massimo del 2018. Ora, considerate che soltanto circa un anno fa c'è stata una riapertura parziale della Via Sicilia, questo significa che evidentemente c'è stato un ritardo fortissimo, un ritardo che ovviamente poi si è in qualche modo riversato su quello che era la vita economica, e non soltanto la vita economica, di quell'assa viario, di Viale Lazio e Via Sicilia. Cosa è successo in particolar modo? Che in realtà chiudendo queste due vie, comunque Via Sicilia sicuramente, Viale Lazio in un'altra parte, tutte le attività commerciali che erano in situ sono in qualche modo crollate, per chi ha resistito tra l'altro, perché ci sono diverse attività che in realtà non hanno più avuto la possibilità di reggere quello che è stato un abbattimento quasi del 70% di quelli che erano gli incassi e con costi che in realtà rimanevano tali. Ricordo l'amico Caminita, ricordo con affetto anche Caminita che era una macelleria, il Palumberi con il famoso Bar Sicilia, a un certo punto l'amico Palumberi non è riuscito più a sostenere anche l'aspetto psicologico che è stato devastante, perché quando si va ovviamente a perdere un'attività sotto un profilo economico, non ci sono più sostegni economici e non c'è stato nessun aiuto, è ovvio che questo poi si riflette un po' a livello psicologico, al di là del fatto che poi, oltre l'amico Palumberi, Caminita, potrei dirne altri, SKK Trade, sono tutte attività che in realtà hanno chiuso proprio perché non hanno avuto la possibilità e devo essere sincero neanche il sostegno da parte degli interlocutori addetti, quindi una situazione veramente pesante. Succede quindi che a un certo punto, visto che il sacrificio diventava intollerabile, queste attività si sono messe insieme, queste persone si sono messe insieme e hanno chiesto assistenza. Sì, devo dire che è stato fatto un lavoro di massima collaborazione, con molte difficoltà, di massima collaborazione tra lo studio che rappresento e le attività commerciali, anche nella gestione non soltanto di quelli che erano i fatti di ogni singola attività commerciale, ma anche quelle che poi erano le contabilità, i costi, perché l'oggetto del giudizio riguardava una prima parte sull'indennizio e una seconda parte sul risarcimento, ora poi magari vi spiegherò un pochettino meglio. Quindi un lavoro, devo dire, molto, molto, molto oneroso, molto importante, molto complesso, e anzi sul punto ringrazio l'amico collega, avvocato Michelangelo Girandoli, che è stato veramente manforte insieme allo studio nel sostenere questo giudizio, che poi è durato dal 2017 fino al 2023. Parliamo di veramente un'attività giudiziale molto corposa. Che è durato quasi quanti lavori, diciamo. I lavori, allora, se dobbiamo essere più precisi, ancora non sono terminati, perché la via Sicilia non si può tirare dritto, superando il veridazio come una volta, e c'è ancora un manufatto che deve essere ultimato, e credo che uscirà dove ci sarà la discesa per andare giù al metro, che si auspica, osse in qualche modo aprirsi veramente da un momento all'altro. Quindi di fronte cosa abbiamo avuto? Un'opera importante per la città di Palermo, ma quest'opera in realtà ha distrutto veramente tutta la vita economica di questo tratto viario, l'ha distrutta, perché, a parte il fatto che conosco tutta quella zona, ma molti la conoscono, l'ho vissuta quotidianamente, per cui c'è stata una devastazione a livello strutturale, perché scavi, camion, ruspe, lavori che non finivano mai, devo dire, abbiamo anche lamentato in giudizio il fatto che ci fosse stato, si fosse determinato da un'attività lavorativa veramente molto a rilento, mesi addirittura che non si lavorava, perché poi ci sono state anche delle vicende processuali, che era interessato la Tecnis, e quindi ci sono state sospensioni. Dico, un problema dietro l'altro, devo essere sincero, a nostro parere, più che a nostro parere, lo dicono anche i tempi di realizzazione, in realtà, dove c'è stato evidentemente, ci sono stati degli inceppamenti, della macchina, della macchina, sì, e poi con la solita... E quindi si è installato questo giudizio, nel quale evidentemente si chiedevano il risarcimento del danno patito, e non soltanto di quello fisico, nei confronti di RFI e Comune? Comune di Palermo, RFI, talferre, soggetti che sono tutti interessati, tra chi è committente, chi è esecutore, chi dà in appalto, tutti i soggetti che poi rispondono in solito, secondo le rispettive responsabilità. Devo dire che questa sentenza è emessa dalla terza sezione civile... Ecco, adesso prima di entrare, raccontate, diciamo cosa ha stabilito questa sentenza, è emessa quando... Allora, la sentenza è stata emessa circa un mesetto fa, è dalla terza sezione del Tribunale Civile di Palermo, della dottoressa Nozzetti, giudice che stimo veramente tanto, è una sentenza che ha, in qualche modo, determinato quello che un po' è stato, è stato il ragionamento da noi manifestato nell'atto introduttivo, e poi tutti gli atti dove la prima parte, i primi due anni, noi li abbiamo in qualche modo ascritti all'indennizzo, ora spiego che significa, è dal 2017 in poi a titolo di risarcimento. Diciamo l'elemento importante di questa sentenza è proprio questo, il fatto che un Tribunale, devo dire anche contro altre pronunce che non erano favorevoli, ma a mio parere dovevano essere istruite le cause, cose che invece avvenono fatto e che è avvenuto in questo giudizio, perché nei primi due anni si discuteva di indennizzo, cioè queste attività commerciali avevano diritto a essere sostenute, questo è il punto di domanda. Noi abbiamo fatto di tutto e di più, non sto qui perché ci vorrebbero 10 ore di trasmissione per dire tutto quello che noi abbiamo fatto, anche battendo i pugni, per cercare di dare un po' di ossigeno all'attività commerciale, non hanno ricevuto nulla, di niente, zero, assoluto, sono state abbandonate a se stessi, hanno continuato a pagare le tasse, in un teatro che sembrava di guerra, veramente c'era un lavoraggio nelle davanti dove poi si andava a accumulare della sporcizia, immondizia, dei topi, acqua, di tutto. E in questi due anni dell'indennizzo, in realtà non essendoci stato un sostegno, noi abbiamo in qualche modo rappresentato in giudizio che questa redistribuzione degli interessi, perché questa è la base, cioè quest'opera pubblica serviva anche alle attività commerciali, sì, ok, però non è che il peso economico e il sacrificio può essere redistribuito il 95% sull'attività commerciale, il 5% se lo accolla il committente o chi per esso. Quindi abbiamo rappresentato e significato in atti che in realtà questo principio di redistribuzione non ha avuto nulla, perché alla fine hanno dimostrato che tutte queste attività non solo hanno sofferto, alcune hanno chiuso. E questo ha fondato poi l'indennizzo. Quindi in prima istanza... Quindi il riconoscimento di una parte dei costi, i primi due anni, il riconoscimento dei costi con una, diciamo, abbattimento, perché fatto, determinato dal giudice, devo dire condivisibile, perché comunque alcune attività hanno continuato a lavorare e quindi c'è stato un abbattimento del 50% di quelli che erano i costi, quindi una sorta di restituzione di quello che si era dimostrato, come indennizzo. Il risarcimento scatta nella seconda parte, che è quella che in qualche modo riguarda... Nella fase in cui... Nella fase del 2017 inoltrato in poi, cioè era la fase in cui... Nella fase in cui in teoria doveva essere già tutto apposta. Eh, doveva essere tutto finito, ma in realtà così non è stato, perché di finito non c'è stato niente, c'è stato un ping-pong di responsabilità dove si discuteva con tutti, ma alla fine i lavori erano sempre quelli, andavano sempre a rilenti ed essendo stato dimostrato fondamentalmente il superamento del cosiddetto cronoprogramma, quindi c'era stato un progetto, erano stati dettati dai tempi e su questi tempi ci si doveva muovere. Si può capire uno sbordamento di tre mesi, sei mesi, ma non di quattro o cinque anni. Questo, anche secondo la Cassazione che abbiamo anche indicato esistente, ha generato un diritto risarcitorio, quindi ottenere, quindi fare, passare da una consulenza tecnica contabile che è stata in qualche modo espletata su disposizione del giudice e ovviamente sulle nostre richieste, ha fatto delle valutazioni, devo dire che queste valutazioni sono ancora a nostro ovaio, perché alcune ci hanno soddisfatto, altre un pochino meno, devo essere sincero, e sulla base di questo poi il giudice ha emesso una sentenza, non uso il termine storica, ma veramente importante, sotto il profilo proprio del riconoscimento del risarcimento da fatto lecito, perché il fatto lecito è la realizzazione dell'opera pubblica. Però tra l'altro che è comunque un'opera di pubblico interesse su questo pezzo che non ci piova, però i tempi non sono stati conguri, non sono stati rispettati i tempi previsti, non è stato neanche... Assolutamente. È stato esagerato anche il ritardo, definiamolo così in termini poco giuridici, ma di fatto quello è il fatto oggettivo, di conseguenza hanno ottenuto queste attività un indennizzo e un risarcimento. E un risarcimento. Nell'ordine di? No. Chiaramente sono diverse le varie... Nono percentuali rispetto al danno sentito. E no, ovviamente non hanno ottenuto tutto quello che dovevano ottenere, tra l'altro si è arrivati sino al 2019 e non anche dopo, e quindi questa è in qualche modo una questione che stiamo valutando allo studio per capire, perché dal 2019 almeno fino al 2021 doveva esserci una prosecuzione del risarcimento. ora le valutazioni fatte dallo stimato giudice in qualche modo, in qualche passaggio per noi, saranno oggetto di valutazione. Cosa volevo sottolineare? Volevo sottolineare che la cosa più triste di questa vicenda è stato quello di parlare e sentirsi veramente, non dico tutti i giorni, ma veramente spesso, con chi in realtà ha sofferto di più. Quindi non era soltanto l'aspetto economico, ma c'era un'attività che durava da 40 anni, da 30 anni, da 20 anni, il sentirsi abbandonati. Questo è stato l'aspetto quello più triste. Siamo contenti sotto questo profilo perché abbiamo in qualche modo restituito diciamo giustizia, anche se non siamo riusciti con tutti per come noi volevamo, però è una sentenza molto importante, restituisce certamente un po' di coraggio a tutte quelle attività che effettivamente sono state surclassate. Ora io vorrei superare un attimo la vicenda specifica, per la quale evidentemente è importante, porterà a un risarcimento e a un indennizzo. Anche se ci sarà, ipotizzo, un ulteriore grado di giudizio, probabilmente, possibilmente, forse non da controparte, ma probabilmente anche da parte vostra, per una diversa quantificazione, di quantificazione, ma percindendo da questo, questa sentenza propone anche una base per il futuro di altre opere e di altre situazioni, non dico analoghe, ma comunque possono essere considerate simili. Se le cause servono a qualcosa, se le esperienze storiche che si vivono servono a qualcosa, bisognerebbe partire dal presupposto che quando si fanno delle opere del genere, quando si realizzano delle opere del genere che sono importantissime, prima si sa dove si va a parare, prima si sa quanto può incidere sull'economia locale, perché, ribadisco, non si può realizzare un tratto ferroviario distruggendo tutta l'economia, perché non c'è più niente. Noi già avevamo avuto un primo percorso con l'attività commerciale alla guadagna, anche lì c'è stata veramente una distruzione. Cioè è importante ricevere queste opere, è motivo di civiltà, di ammodernamento, però si devono fare i ragionamenti tenendo conto non soltanto della vita delle persone, ma della vita delle attività, immaginando prima anche quando poi si va a fare un ragionamento di bilancio, quanto mi viene a costare quest'opera? Ok, come si è fatto anche in altre parti d'Italia, magari in quel budget economico si inserisce un quid in più che deve essere utilizzato previa allegazione da rapportare a sostegno di quelle attività economiche e nella speranza, dico poi ultimo questo passaggio, perché non c'è molto a dire, che se si prevede una durata di lavori di 5 anni, di 3 anni, di 4 anni, non si può sbagliare del doppio, del triplo. Tra l'altro non è stato dimostrato in giudizio, e questo è l'elemento poi più importante, in giudizio non è stato dimostrato che le opere hanno avuto un ritardo per fatti non previsti e non prevedibili, che questo è l'unica esimente che c'è. Cosa che sono accapitate altrove, un fallimento di imprese e così via. Sono tanto un rinvio dopo un altro e credetemi, per chi è stato lì e per chi ha vissuto, vedere molte volte il cantiere chiuso o con due operai, francamente, poi si spiega anche il perché. Quindi un insegnamento che possono trarre le amministrazioni, parliamo del comune di Paverno, ma questo vale per qualunque amministrazione, sarebbe anche quello di, oltre ad avere tempi certi, o quasi certi, nella realizzazione, prevedere anche un ristoro per quelle attività commerciali che vengono ad essere colpite, fra virgolette, dal cantiere. Questo è il concetto base. Io mi abbasso un po' di statura, anche se già sono quello che sono, e l'insegnamento traduciamolo in un consiglio, perché io posso insegnare forse ammestri, credo che certamente, quando si ragiona su un appalto, si debba considerare prima quello che è il danno che si arrega l'economia. Non si può veramente immaginare che comunque sono pedine sacrificabili, no, perché intorno a quelle pedine sacrificabili ci sono famiglie dipendenti, quindi prevedere prima quale può essere l'impatto economico e sostenere prima, quindi prevedere all'interno delle pieghe dell'appalto, anche una parte economica a sostegno, ovviamente che deve essere in qualche modo commisurata, ma la cosa più importante è la vigilanza, che questo interessa anche in particolare il Comune di Palermo, che in realtà sarebbe stato più opportuno probabilmente vigilare, controllare, e intervenire con ogni mezzo affinché i propri cittadini non venissero massacrati per come, massacrati ovviamente tra virgolette, ma venissero veramente danneggiati per come è stato, quindi mi auguro che questo possa servire, ci sono altri lavori che si stanno sviluppando, altri se ne faranno ancora, l'importante è questo, cioè tenere conto che la vita delle persone è sacra, parlo anche della vita delle persone che passano dalla famiglia e la famiglia fonda sul lavoro, se non c'è il lavoro, e tutto il resto poi va. Peraltro, questo lo dice già la nostra Costituzione, che è tutta fondata sul lavoro, quindi sembra che... Direi, la famiglia e il lavoro sono due garanzie offerte dalla Costituzione. Ci sono altre situazioni che potrebbero considerarsi similari a questa e che potrebbero nei prossimi mesi, anni, trovare uno sbocco simile? Ci sono per ora ancora diversi cantieri aperti a Palermo, non so se poi ne apriranno ancora, il messaggio che io posso soltanto mandare alle istituzioni interessate, il messaggio che spero possa interessare a qualcuno, non deve evitare di pagare poi di più anche con le sentenze, è che le istituzioni interessate sbogano veramente il loro... viene il loro apporto affinché questi lavori siano mirati, senza sprechi e con massima attenzione che non ci siano delle lungaggini eccessive. Poi sulla questione dell'indennizio già mi sono in qualche modo esposto, nel senso che probabilmente sarebbe opportuno prevedere degli interventi a monte e poi nell'ipotesi in cui purtroppo non c'è una via d'uscita invito ovviamente a rivolgersi a chi c'è un danno, a rivolgersi a un avvocato e a far valere secondo giustizia le proprie ragioni perché non si può veramente... Ecco, diciamo l'elemento che ha aiutato molto il sottoscritto è stato il fatto che un po' tutti si sono in qualche modo uniti in questo percorso giudiziale devo dire non con molta fatica perché dopo sette anni di giudizio l'avvocato deve mettere anche la propria faccia quindi benvenga che ci siano miglioramenti si spera che tutto questo veramente possa essere utile per il futuro e auspico veramente che ci sia maggiore vicinanza tra in particolare il comune e i cittadini perché i cittadini non possono essere abbandonati per come sono stati in via Sicilia e in parte in via Lazio Ricordiamo che molte di queste attività che oggi riceveranno indennizi di varia natura addirittura non esistono più nonostante note conosciute e molto frequentate fino a qualche mese dopo l'avvio dei lavori Sì, sì devo dire sì ho fatto due nomi tra tutti manca SKK che era arrivato alla fine quindi c'è all'inizio è entrato hanno iniziato i lavori e quindi ha avuto un danno enorme ma lo storico Barsicilia il Caminita dico hanno avuto veramente un collasso che poi ha portato alla chiusura poi ovvio rinasce un po' piano piano tutto quindi la riapertura ha portato un'altra volta un po' di linfa e anche qua da qua si evince la giustezza della domanda la ritenuta giustezza della domanda e anche la fondatezza e la condivisione della sentenza perché le nuove attività che si sono poi succedute da Magria alla prosecuzione di alcune attività commerciali l'altra banca e tutti quelli che in qualche modo hanno le loro attività lì e quelle che apriranno perché so che adesso apriranno un paio di attività commerciali proprio nella zona di Via Lazio appena toglieranno ovviamente godranno di un beneficio però patito purtroppo dagli altri grazie all'avvocato Giuseppe Emanuele Greco per essere stato con noi e averci raccontato questa vicenda grazie a voi che ci avete ascoltato e speriamo che questo sia servito anche a dare indicazioni a chi ci amministra arrivederci alla prossima una buona serata